Anche quest'anno per il mese di agosto i parcheggi a pagamento su aree pubbliche del comune di Prato saranno gratuiti. Lo ha deciso lo stesso comune confermando una tradizione che va avanti da molti anni. Gli automobilisti che lasceranno il loro veicolo in queste aree non dovranno dunque pagare il ticket previsto negli altri periodi dell'anno. Sarà gratuito anche il parcheggio di via Arcivescovo Martini le cui sbarre di ingresso e di uscita rimarranno alzate. Rimarrà invece a pagamento unica eccezione il parcheggio coperto del serraglio dove sarà necessario continuare a pagare il ticket. Non andranno invece in vacanza le spazzatrici di Alia. L'amministrazione ricorda che il calendario della pulizia strade resterà invariato anche nel mese di agosto e quindi le strade dovranno essere liberate dai veicoli come sempre. Per i trasgressori scatteranno le multe.